il 2020 è l'anno dei podcast io non lo so se questa affermazione è vera ma senza dubbio quest'anno c'è una maggiore consapevolezza legata a questo strumento spero data anche dai video che di tanto in tanto faccio a questo tutorial in cui cerco di spiegarvi come fare un podcast e tutto quello che gravita intorno a questo mondo dell'audio io sono Damiano Croniali state guardando il bello del web il mio canale youtube nel quale do di tanto in tanto degli aggiornamenti racconto quello che sta succedendo nel mondo dei podcast ho lavorato per anni in radio e ora mi sto dedicando al podcast dal momento che mi trovo in Kuwait e sto registrando di notte dal mio studio appunto in Kuwait City e partendo dalle mie esperienze ti voglio raccontare gli aggiornamenti che ci sono stati per parlare del tema appunto di questo video che è come fare la pubblicità con Spotify come fare la pubblicità al tuo podcast oppure al tuo audio con Spotify e infatti la grande novità di quest'anno è che Spotify ha lanciato la sua piattaforma advertising cioè per fare pubblicità autonomamente venite con me e vi faccio capire perché è così importante questo aggiornamento questo è il mio podcast il bello del web audio experience io lo carico dentro Anchor e poi da Anchor viene sparato dentro le varie piattaforme tra cui Spotify ero partito quotidianamente e quindi la somma di tutte le ma le mie varie i miei vari episodi mi davano dei numeri relativamente alti e poi sono andato a scendere perché ho iniziato a cambiare frequenze ho iniziato a pubblicare un po' quando mi pareva e quindi ovviamente ne ha risentito ma e l'ho fatto perché ovviamente non avevo una vita ci occorreva tantissimo tempo per come lo volevo curare io e non raggiungevo le mille visualizzazioni i numeri sono quindi abbastanza bassi ancora ad oggi ma quello che ha sempre ho notato fin dal primo giorno è che Spotify ha sempre cubato una grande quantità di spazio di come piattaforma in cui le persone lo ascoltavano ha sempre preso molto ad oggi che il mio podcast ha cambiato a una frequenza irregolare others a maggior spazio perché le persone ascoltano i vecchi episodi che sono comunque sia di valore sono approfondimenti legati al mondo dei racconti delle storie racconti giornalistici sul mio blog oppure su Alexa quindi o sulle altre varie piattaforme di podcast sul desktop però Spotify nonostante all'inizio all'inizio Spotify aveva oltre il 50% del mio traffico gli ascolti mi venivano da lì oggi ancora ha una quota considerevole questo 35% e quindi è importante l'aggiornamento che Spotify ha fatto cioè la possibilità attraverso l'addi studio l'advertising studio di Spotify di poter creare delle pubblicità da soli tramite il suo strumento perché prima le pubblicità le potevamo fare o tramite Facebook e quindi rimandevamo al podcast oppure tramite a AdWords la pubblicità di Google però era un giro complicato perché poi Spotify è una piattaforma esterna quindi non era semplicissimo far conoscere il proprio podcast invece oggi all'interno proprio di Spotify tu puoi avere la tua pubblicità la tua interruzione pubblicitaria tra un podcast e un altro e ti faccio vedere come poter attivare la tua piattaforma pubblicitaria su Spotify vieni con me devi registrarti per prima cosa dentro podcaster.spotify.com che è il luogo dove tu vai a caricare il tuo podcast moltissimi utilizzano servizi tipo Spreaker o altri che ti registrano, lo fanno per te se ti sei registrato tramite uno di questi servizi devi andare, dopo che ti sei registrato devi andare a dire alla piattaforma che quel podcast è il tuo, cioè è proprio il tuo e quindi a quel punto ti impossessi del tuo podcast anche all'interno di Spotify dove puoi avere anche un po' di statistiche e vai a vedere un po' di numeri che ti dà Spotify stesso insomma dopo che hai recriminato il tuo podcast mi viene questa parola, adesso mi sfugge il termine tecnico proprio però da una volta che ti autoassegni la paternità del tuo podcast a quel punto quello che devi fare è andarti a registrare dentro AD Studio di Spotify lo raggiungi attraverso l'indirizzo adstudio.spotify.com ti faccio vedere come vai dentro adstudio.com, ti registri e dopodiché hai la possibilità, dopo che ti sei registrato, di gestire le tue advertising entri dentro manage ads qui hai una panoramica di tutte le tue advertising io adesso ci ho solamente un paio di draft, cioè pubblicità in bozzi e adesso vi faccio vedere come si crea proprio passo passo un advertising per prima di cosa devi dire chi sei, se sei un musicista oppure un non musicista in questo caso io sono un non musicista perché questo strumento vale anche per i musicisti cioè se tu hai un brano puoi pubblicizzarlo all'interno da solo, all'interno di Spotify dai un nome alla tua pubblicità il bello del web prova 1 questa è la massima originalità che mi viene in mente in questo momento a questo punto vai a targettizzare, a gestire il budget e dici quando devi iniziare quindi quando andate a lanciare la vostra campagna vai a mettere il budget la pubblicità su Spotify non è economica cioè si parte da un budget minimo di 250 dollari che sono circa 230-240 euro a salire quindi considerate che il budget di partenza è quello dopodiché, dopo che avete messo il budget e decidete il paese Italia potete decidere tutto il paese oppure potete selezionare le singole regioni oppure città oppure anche aree geografiche Teramo ecco, metto Teramo sicuramente un luogo che non puoi targettizzare sicuramente è il Kuwait perché questo già lo so in Kuwait Spotify non so per quale motivo non c'è quindi io non posso lo si ascolta tramite Apple Podcast in Kuwait come avete visto anche dalle statistiche prima quelli lì sono tutti kuwaitiani che ascoltano il mio podcast qui dopo che avete messo il territorio mettete l'età delle persone che vi devono ascoltare il genere la piattaforma se è solamente iOS oppure iOS Android oppure tutte oppure solamente desktop e poi andate a scegliere il vostro target le opzioni che vi dà sono per interesse quindi potete pubblicizzarlo su tutti quelli che fanno podcast oppure su un argomento specifico travel gaming oppure potete utilizzare il real time context che significa durante delle ricorrenze specifiche oppure un momento quindi durante il dinner durante i viaggi quando le persone studiano le persone lo sanno quando viaggiano perché ad esempio io quando sono in viaggio mi segnala che non ho il Spotify c'erano solamente per un determinato periodo quindi in momenti specifici oppure potete già decidere per genere musicale quindi musica alternativa vediamo quali musicacista cristiana qui avete tutti i generi musicali oppure potete decidere su nulla potete anche non specificare nulla avete infatti accanto un pannellino in cui vi dice la portata quante persone raggiungete quando spendete uguale identico a Facebook credo che l'abbiano preso proprio da loro tra le altre cose perché è proprio identico spiccicato quindi è pure un po' diciamo familiare per chi fa già la pubblicità dentro Facebook e a questo punto e dopo aver fatto tutto questo andate a mettere dentro la vostra creatività quello che volete fare che consiste nell'avere un'immagine di copertina nell'avere un audio che non deve superare i 30 secondi e dove volete mandare il vostro link potete mandare direttamente al vostro podcast dentro Spotify stesso che è quello che vi consiglio oppure mandare ad un link qualunque esterno vediamolo insieme allora questa è la piattaforma di creatività avete anche la possibilità di vedere come viene trasmesso qui accanto dovete mettere una creatività un'immagine io vi consiglio di utilizzare Canva dentro Canva voi avete le vostre potete creare una creatività ad hoc per Spotify la scaricate che deve essere di 640x640 PNG oppure JPEG una volta che avete la vostra creatività la caricate cioè l'immagine intendo in questo momento dopodiché decidete dove mandarlo qui mettete o il link di Spotify oppure io adesso non me lo ricordo a memoria qual è il mio link di Spotify potete utilizzare anche che è l'ultimo episodio del podcast che l'ho messo anche sul mio sito quindi mi ricordo adesso l'indirizzo del sito adesso ho messo questo dopodiché andate a caricare la vostra il vostro audio potete direttamente registrarlo qua con la piattaforma oppure potete caricarlo che è quello che vi consiglio io io lo creo prima montandolo dentro Final Cut e poi lo vado a caricare adesso ho già creato uno che è questo Audio Spot MP3 potete anche riascoltarlo il mio è solamente un test quindi non ho fatto una gran cosa io ho viaggiato in Iran e vi mostro adesso una carrellata di siti che possono essere ammirati questo è il mio test lo potete vedere da mobile oppure da desktop come viene potete ascoltarlo vedete se vi piace una volta che avete completato anche la creatività fate l'ultimo passo che è quello appunto di lanciarlo adesso dovete mettere ovviamente la carta di credito e i sistemi di pagamento e qui si apre adesso un discorso che è quello che ad oggi a di studio è presente solamente di Spotify è presente solamente in quattro paesi che sono Stati Uniti, Canada, Australia e in Europa è presente in Inghilterra e dovete avere una carta di credito associata a uno di questi paesi o un conto quello che vi consiglio io è di farvi un conto Revolut io non ho mai avuto nessun conto Revolut non lo conosco ma è un conto gratuito quindi pagate zero non vi costa nulla e vi dà di default nel piano quello già gratuito un conto in Inghilterra con una carta di credito inglese con una carta di debito inglese una prepagata insomma che vi può servire anche solamente a fare la pubblicità dentro Spotify adesso vi dico una cosa nel momento che io non guadagno nulla con i video di YouTube se pensate che questo video vi è utile vi è servito in qualche modo io ho chiesto un'affiliazione a Revolut se accedete tramite il mio link croniali slash Revolut per aprirvi un conto Revolut a voi non vi costa uguale cioè niente cioè a voi continua a non costarvi niente e per ogni persona che si iscrive tramite questo link su di me cade polvere di euro dovrebbe arrivarmi qualche euro uno, due euro per ogni persona che si iscrive cioè praticamente niente però vi ringraziate in questo modo se vi fa piacere o mi supportate insomma in questi tutorial che sto facendo se no vi andate direttamente su Revolut.it ed è uguale cioè darà questo link o da quell'altro è uguale insomma questo è il tutto la parentesi supporto tornando a noi dal momento che è attivo solamente in questi paesi anche per farvi l'account dentro a DStudio dovete utilizzare un servizio di VPN utilizzate qualunque servizio volete io utilizzo tunnelbeer non perché c'ho qualche affiliazione o qualcosa anzi credo che costi forse pure più di altri ma a me funziona abbastanza bene qua in Kuwait se no utilizzate qualunque servizio di VPN ma quando vi andate a registrare dentro a DStudio prima di registrarvi attivate la VPN collegatevi in Inghilterra se avete un conto inglese se vi attivate Revolut avete il conto inglese oppure vi registrate in uno dei paesi America, Canada e Australia in cui è attivo altrimenti non potete accedere proprio alla piattaforma di a DStudio e insomma siamo arrivati alla fine di questo tutorial in cui vi ho provato a far vedere e spiegare un po' come funziona la pubblicità dentro Spotify molto interessante questa cosa qui perché ovviamente le persone non escono dalle piattaforme e fare una pubblicità direttamente dentro Spotify per far conoscere il vostro podcast ma anche potete utilizzarla per far conoscere la vostra musica io la trovo una cosa molto interessante non è appunto Attivi in Italia vi ho spiegato come fare quindi utilizzate una VPN vi collegate in uno dei paesi in cui attivi se non state in nessuno di questi paesi mettete Inghilterra e utilizzate un conto e apritevi un conto gratuito Revolut se lo volete fare tramite il mio link mi date insomma una mano per sponsorizzare appunto questi video e se vi servono altri suggerimenti o altre informazioni sul mondo dei podcast ditemelo pure avete seguito Il Bello del Web io ho un podcast ma sono storie racconti soprattutto dal Medio Oriente che è questa parte del mondo dove vivo io se volete rimanere in contatto con me se volete scrivermi o volete chiedermi anche altre cose lo potete fare ovviamente nei commenti oppure ho questo canale Telegram Il Bello del Web mi potete scrivere insieme a delle informazioni e racconti appunto del Medio Oriente ogni tanto do delle informazioni appunto sugli aggiornamenti del mondo del podcast per il momento è tutto buon anno e buon 2020 fate tanti podcast se volete segnalatemi i podcast che fate in bocca al lupo e noi ci vediamo presto con un altro video ciao